Giovedì 12 aprile 2018, ben trovati appuntamento odierno con la rassegna stampa di TV6, mattino 6 che si apre come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, poi vedremo insieme i titoli invece dei quotidiani nazionali e andremo ad approfondire le varie tematiche di carattere nazionale e locale, poi nell'ultima parte parleremo anche di sport. Ma andiamo per ordine, iniziamo con la prima pagina del centro edizione di Pescara, si parla di tasse, di tari in particolare, vedete il titolo in alto, 2300 cittadini introvabili, Pescara comune a caccia dei contribuenti irreperibili alla consegna dei bollettini e poi open day all'università di Pescara ieri, futuri ingegneri, vogliamo ricostruire l'Abruzzo. E poi siamo alle cronache, sempre a Pescara, si parla in questo caso di sport e di cronaca perché sabato ci sarà l'attesa partita di campionato allo stadio adriatico tra Pescara e Bari, partita a rischio, città blindata, anche in virtù degli scontri, degli incidenti dei tafferugli che ci furono due anni fa nel corso e dopo soprattutto la gara tra Biancazzurri e Biancorossi. La cronaca, ci spostiamo a Francavilla al mare, colpo di sonno in Galleria 2, in ospedale, ennesimo incidente all'interno della Galleria Le Piane, lungo la variante che collega Montesilvano a Francavilla. E a proposito di Montesilvano, si parla di politica perché la maggioranza cerca l'accordo sul bilancio. E poi fondi per le famiglie, regione 4 milioni destinati a chi assiste parenti, anziani, malati e disabili. Vedete questo titolo nella parte bassa della pagina. Altre notizie, si parla di politica regionale, invece a pagina 2 il presidente del Consiglio regionale di Pangrazio dice il 16 aprile aprirò il caso d'Alfonso. E tra l'altro vi anticipo che tra poco vedremo un servizio proprio con le dichiarazioni del presidente del Consiglio regionale. E poi a Verona si apre il Vinitaly, l'Abruzzo con 101 cantine, l'appuntamento tradizionale per gli appassionati del vino. Ancora sulla prima pagina del centro il calcio, calcio internazionale, la beffa con la Juventus che sfiora il miracolo al Bernabeu. Beffa finale sul rigore. Vittoria inutile dei bianconeri per 3 a 1 ma la Juventus conduceva per 3 a 0 fino al 94esimo. E poi al cinema, Marco Giallini e Tempesta, abbiamo un attimo recuperare il titolo, eccolo qui, Marco Giallini e Tempesta, guru disonesto. E poi le offerte, la tv del futuro tra satellite e visione online. Andiamo a vedere anche ovviamente la prima pagina dell'edizione di Chieti, Lanciano Vasto del centro, ex conceria 3 milioni per la bonifica. Siamo a Chieti Scalo, spunta anche un progetto del 2006 per il sito contaminato lavoro mai fatto. Da come leggiamo in questo titolo, restiamo più o meno in argomento, sempre di ambiente parliamo. Quintiali di amianto abbandonati sulle rive del Sangro, maxi discarica sul greto del fiume. E poi vediamo le altre notizie, in questo caso Chieti, Massimo Cucullo muore in ospedale dopo l'intervento, il figlio dell'ex sindaco Nicola Cucullo. E poi, a basto, auto rubate in seguimento e due arresti. E poi, tornando a Chieti, frutta esposta allo smog, scatta la maxi multa. Vediamo anche la prima pagina del centro edizione di Teramo. Rubano 1300 giorni di lavoro alla ASL, denunciati due dipendenti, invece di assistere i familiali marati, erano in vacanza. E si parla di elezioni a Teramo, e ormai se ne parlerà sempre più, da qui fino all'appuntamento elettorale. Tempi più lunghi per la scelta tra Del Paggio e Morra. E dunque si guarda soprattutto in casa del centrodestra per vedere chi sarà il candidato alle amministrative. E poi ci spostiamo a Tortoreto, due indagati per l'ammanco sui buoni pasto a Teramo. La cronaca perseguita la ex con i fiori, pena di dieci mesi. Ancora a Teramo, sgravi fiscali da restituire, imprese a rischio. Lasciamo la prima pagina del centro di Teramo. Andiamo a vedere quella di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Si parla ovviamente in questo caso delle tasse all'Aquila del post terremoto. Si mobilita tutto l'Abruzzo, l'Aquila lunedì in piazza, imprese e cittadini. Sfilerà anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Domani vetrine spente in città. E poi a Sulmona la lezione del prete Coraggio. Don Ciotti e gli studenti, riempite la vita di contenuti. Vedete nella foto Don Ciotti a Sulmona. E poi vediamo la cronaca. Torniamo all'Aquila, anziana coppia scaccia di casa una truffatrice. E poi Avezzano, pistola puntata su un bambino, due condanne. E poi ancora Campobasso a Scrocco in hotel, scatta la diffida. Questa notizia che arriva da Avezzano. E siamo alla prima pagina dell'inserto Abruzzo. Invece del messaggero, legge 104, esplode il bubone. Teramo due dipendenti dell'Asl verso il rinvio a giudizio. Erano in vacanza nei giorni di permesso per assistere i parenti. Il direttore generale denuncia gli eccessi nell'azienda. E poi andiamo a centro pagina. Tasse, la Meloni, in corteo, dossier per Mattarella e sindaco dell'Aquila. Annunce, iniziative e mobilitazione sul nodo della restituzione. E poi vedete l'eroe del giorno di ieri. Ma l'eroe sarà eroe anche per i prossimi giorni. Parliamo di Eusebio Di Francesco, orgoglio abruzzese perché il tecnico della Roma che ha eliminato il Barcellona nella Champions League è pescarese d'ocche. Dunque questo è un successo, una vittoria anche per Pescara e l'Abruzzo del calcio. Andiamo a vedere anche l'articolo di Spalla. Anche sul messaggero si parla della presenza, della visita di Don Ciotti a Sulmona. Don Ciotti sposa la protesta di Sulmona, il sostegno alla rete Noab. Un dovere è difendere, ha detto Don Ciotti, il vostro ambiente. E poi andiamo nella parte alta della pagina per vedere altri titoli di articoli che troveremo all'interno del giornale. Pescara, area di risulta e filobus perché i grandi progetti rischiano lo stop. E poi Acchieti, picchiato per la maglia del Pescara, l'ultra si scusa. E poi l'Aquila, vedete l'articolo sulla parte destra in alto, il grazie del generale Berto agli alpini tornati dalla Libia. Vediamo anche la prima pagina del quotidiano La Città, vedete il titolo di apertura. Zio e nipote, due furbetti alla Aslo, ottengono 1300 giorni di congedo per assistere parenti disabili. La finanza li becca in vacanza. E poi Teramo al voto, spaccatura all'orizzonte, la Lega vuole del Paggio. Gli altri invece morra. E poi invece clamoroso scrive il quotidiano La Città. Il centro-sinistra vuole insistere con il rettore D'Amico, che però in più occasioni ha rispedito al mittente la richiesta di candidarsi come sindaco di Teramo per il centro-sinistra. Vediamo a proposito di politica anche quello che accade a Silvi. Il centro-sinistra sceglie Scordella, ma anche no. Poi vedremo nel dettaglio cosa vuole dire questo titolo. E poi la cronaca giudiziaria. In questo caso Fiori e minacce alla ex patteggia dieci mesi al sessantenne ossessionato di Penna Sant'Andrea. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Andiamo a vedere invece le prime pagine dei giornali nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, la politica in primo piano, politica nazionale e poi anche quella internazionale. Il Quirilane di governo e l'intesa possibile, telefonata Salvini e Di Maio. Torna l'asse, ovviamente si parla delle manovre del Presidente della Repubblica, se così le possiamo chiamare per cercare di formare un nuovo governo, perché al via sono il secondo round delle consultazioni. E poi siamo alla vicenda Siria. Trump sfida Putin, tweet del Presidente americano. Mosca si prepari ai nostri missili, belli e intelligenti. ha scritto nel tweet il Presidente americano. E poi Juve la rimonta naufraga nel finale ad alta tensione. Vedete i giocatori della Juventus in questa foto, che circondano l'arbitro inglese Oliver, che mostra il cartellino rosso a Buffon. Segna tre gol, la formazione bianconera, poi rigore Real al 96esimo. È accaduto di tutto ieri sera nell'impianto, dove gioca le partite casalinghe il Real Madrid. Andiamo a vedere Repubblica, Trump-Putin, venti di guerra, la Casa Bianca contro Mosca. Questo è il titolo di apertura. Poi la politica, Movimento 5 Stelle e Lega ci riprovano, Di Maio toglie il veto a Forza Italia. Resta il no a Berlusconi. Andiamo a vedere anche Libero, Salvini e Di Maio al Vinitali. Speriamo il Valpolicella li aiuti. Questo è il titolo di Libero, simpatico in questo caso, con le consultazioni che oggi ripartono al Quirinale. Grazie a Roma e Juventus hanno riscattato il nostro calcio. È proprio così, perché questa è la vera notizia, nonostante l'eliminazione dei bianconeri, perché le due grandi gare giocate da giallorossi e bianconeri hanno davvero riscattato il calcio italiano, che negli ultimi anni aveva spesso dovuto alzare bandiera bianca nelle fasi conclusive della Champions League. La Juventus ieri sera è arrivata davvero ad un passo dal miracolo a Madrid. Siamo al fatto, il patto di Maio Salvini sblocca le camere e spaventa il PD e Berlusconi. Vedete il titolo di apertura. E poi il messaggero, la pagina nazionale del messaggero. Trump a Putin, pronti i missili, dice il presidente americano. E poi la politica ritorna all'asse Salvini di Maio, senza intesa interviene il Colle. E poi il grazie dei tifosi giallorossi alla Roma. Il miracolo giallorosso ridà l'orgoglio a Roma. Andiamo a vedere anche il mattino di Napoli. Il titolo di apertura riguarda la Siria in fiamme. Voli da Sigonella, Trump a Putin, preparatevi ai missili. Il cremelino risponde, li abbatteremo. L'Italia, supporto e non raid. E poi, governo entro maggio, pressing del Quirinale. Nuovo giro di consultazioni, contatto di Maio Salvini. Andiamo a vedere anche il sole 24 ore. Dazi, debito e Siria, minacce sulla crescita europea. Rischio scontro diretto USA-Russia. Petrolio Record, da tre anni ovviamente un'eventuale escalation in Siria potrebbe creare problemi proprio alla crescita del nostro continente. Il Tempo di Roma, la capitale del turismo in nero. Il dossier, ogni anno oltre 6 milioni di visitatori entrano in città a Roma. In questo caso, nel più completo anonimato, il Campidoglio perde 20 milioni solo per l'evasione della tassa di soggiorno e sulla sicurezza. La Roma, 100 milioni di euro, scrive il Tempo, parlando del passaggio del turno. E poi, la stampa di Torino. USA-Russia sfida sulle basi italiane. Siria-Trump valuta la richiesta, ma Putin vuole bloccarla per ostacolare l'attacco. E poi, la Juve più bella, fermata da un rigore al 97esimo. I bianconeri rimontano tre gol dell'andata alla Real, sfiorano l'impresa. Espulso Buffon. Il manifesto sul colle, l'ombra di un governo. Nuovo giro di consultazioni per il Presidente della Repubblica. E poi, vedete, la stupida guerra, il titolo che riguarda la vicenda siriana contro la Siria. Trump pronto a schierare missili belli e intelligenti. Mosca, li abbatteremo. Manovre militari nel Mediterraneo. Da Sigonella, dunque base americana del nostro paese, partono in ricognizione i caccia statunitensi. Mentre monta l'asse anti-Assad, Gentiloni in imbarazzo, con la guerra alle porte. Siamo al secolo, anche in questo caso secolo d'Italia, partiti da Sigonella. È lo stesso titolo del manifesto, perché proprio dalla base americana di Sigonella partono gli aerei americani in questo momento, solo in ricognizione il quotidiano. La verità tra Lega e 5 Stelle, guerra a parole, ma sulle presidenze fanno la pace. Oggi al via le nuove consultazioni. Poi Siria, pronti missili, noi siamo messi così, vedete questa foto. E poi il quotidiano della conferenza episcopale italiana, avvenire 5T di guerra. Trump minaccia via Twitter il lancio dei missili e Mosca riporta le navi in Siria e dice risponderemo. E poi la politica italiana, dialogo Salvini Di Maio, ultimatum del Quirinale. L'ultimo quotidiano, l'avvenire che abbiamo letto per quanto riguarda i titoli dell'edicola nazionale. Ora torniamo invece ai quotidiani abruzzesi. Ripartiamo dal centro, a pagina 2 si parla di malati, di anziani e di disabili. Alle famiglie 4 milioni per l'assistenza, nuovo bando della regione rivolto a chi si prende cura dei familiari. Ecco come funziona. E poi, fusione nucleare. Dopo l'Abruzzo ricorrono anche Emilia e Toscana. E poi in basso, in basso si parla di politica regionale, di missioni entro il 16 giunta delle elezioni. Di Pangrazio parla sul caso D'Alfonso, sulle dimissioni del presidente della giunta regionale. Noi abbiamo avvicinato ieri il presidente proprio del consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, a margine di un convegno sulla doppia preferenza di genere. Andiamo a vedere il servizio curato da Alfredo Primante. Toni accesi e clima da campagna elettorale nel primo consiglio regionale celebrato dopo il voto delle politiche del 4 marzo. Un consiglio è arrivato all'indomani dell'ingresso in giunta di Giorgio D'Ignazio e del gruppo di civica popolare, che ha consentito così l'allargamento della maggioranza. Ma contemporaneamente nel bel mezzo delle trattative per completare la giunta rimasta orfana dei dimissionari assessori di Matteo e Gerosolimo, ieri assenti al pari di Mario Olivieri. Il vicepresidente della regione Giovanni Lolli, che ha l'incarico di traghettare l'ente verso le elezioni in programma non appena matureranno i tempi legali dell'incompatibilità del presidente D'Alfonso, sta cercando di trovare un nuovo assetto tra le forze politiche che sostengono il governo regionale. In queste ore si tenta di ricucire il rapporto con Di Matteo, apertamente in contrasto con il presidente D'Alfonso, che però ha fatto un passo di lato. Ma parallelamente è sempre calda la pista del rientro di Mazzocca in giunta, nel frattempo dimessosi dalla carica di sottosegretario, oppure dell'ingresso di Maurizio Di Nicola all'interno dell'esecutivo regionale. Obiettivo puntellare la maggioranza e completare la consigliatura. Mi pare che il vicepresidente Lolli ieri abbia spiegato abbastanza bene, è un allargamento della maggioranza, così lui lo ha motivato. C'è stata una richiesta da parte dell'assessore Gerosolimo e Di Matteo di voler rimettere la delega, di dimettersi da assessore rimanendo in maggioranza. Mi pare qualche giorno fa, un paio di giorni fa è stato nominato, è stata data la delega di assessore al turismo ed altro al collega Giorgio D'Ignazio, quindi una maggioranza ieri presente di 16 persone. Immagino, non so se i tre colleghi, il consigliere Di Matteo, il consigliere Gerosolimo e il consigliere Olivieri stiano chiarendo, diciamo, attraverso un percorso utile al territorio abruzzese, questa di continuare in questo percorso di maggioranza, dando, facendo fare anche un salto del tempo che rimane per la fine della legislatura. Come detto in precedenza, le minoranze Forza Italia e Movimento 5 Stelle continuano a chiedere a gran voce le dimissioni del presidente D'Alfonso. Ieri nel corso del Consiglio c'è stato uno scambio verbale piuttosto violento fra Mauro Febbo e il presidente della regione, con il primo che ha accusato il secondo di abusi nella vicenda del dragaggio del porto di Ortona. D'Alfonso, per tutta risposta, ha replicato dicendo che sono cose che attengono alla pornografia o all'alcolismo. Clima teso anche tra maggioranza e Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi parla apertamente di un sequestro istituzionale in mancanza delle dimissioni del neosenatore D'Alfonso. Il presidente D'Alfonso, il presidente senatore D'Alfonso, deve liberare l'Abruzzo da questo ricatto istituzionale. Ieri c'è stata la prova, provata del fatto, della sua incompatibilità. Lui non può svolgere due ruoli contemporaneamente perché è materialmente impossibile. Quindi non solo è espressamente vietato e sancita l'incompatibilità dall'articolo 122 della Costituzione, ma nei fatti ieri si è dimostrato che non può svolgere due ruoli così importanti contemporaneamente. Questo dunque è il punto sulla situazione politica regionale. Parliamo ora dell'Abruzzo al Vini Italy. Vedete l'articolo a tutta pagina. La carica delle 101 cantine, la fiera del buon bere. Tanti appuntamenti allo stand della Regione, al Salone Internazionale del Vino. Lo chef Nico Romito crea due piatti in onore del Montepulciano d'Abruzzo. Ieri in Regione a Pescara è stata presentata proprio l'edizione del Vini Italy e sono stati forniti tutti i dettagli proprio sulla partecipazione della nostra Regione alla Kermess del Vino di Verona. Vediamo il servizio. We are d'Abruzzo. E' questo lo slogan scelto per la partecipazione del movimento vitivinicolo e oleario abruzzese alla 52esima edizione del Vini Italy di Verona. L'edizione 2018 della Rassegna Veneta coincide con un anniversario importante per l'Abruzzo, il 50esimo della Doc Montepulciano, un evento che sarà festeggiato dalle 101 aziende vinicole che partecipano alla Kermess di Verona in programma dal 15 al 18 di aprile. Un'iniziativa assolutamente brillante che l'Abruzzo segue con una dedica particolare da parte di tutti gli imprenditori abruzzesi. Oltre 100 cantine saranno presenti alla 52esima edizione del Vini Italy, oltre 20 imprese del settore olio quest'anno in maniera particolare, poiché ricorre il 50esimo dalla costituzione della prima doc abruzzese, quella del Montepulciano d'Abruzzo. Il Montepulciano d'Abruzzo è il vino più conosciuto nel nostro territorio, ma è tra i più conosciuti d'Italia. Dobbiamo fare ancora tanto per accreditare il nostro territorio come territorio enologico e lo dobbiamo fare facendolo conoscere a 360 gradi, quindi abbinando il territorio e tutte le sue caratteristiche, le sue peculiarità, ad un prodotto che è l'ambasciatore in assoluto di tutti i grandi territori italiani che sono conosciuti nel mondo. Questo è il passaggio importante, fondamentale, che dovremo fare nei prossimi anni. Al Vinitaly non ci sarà soltanto il vino, ma come di consueto sarà proposto l'abbinamento con le eccellenze dell'agroalimentare regionale. Lo chef stellato Nicoromito si esibirà nella creazione di piatti celebrativi dedicati al Montepulciano d'Abruzzo d'Oc e alla nuova IGP regionale, la patata del Fucino. Porteremo a Verona anche gli altri prodotti del territorio, a cominciare dall'olio e ovviamente dalla patata, che ha avuto quest'anno un riconoscimento importante, l'IGP. Noi attraverso la certificazione dei prodotti riusciremo a promuovere, a comunicare, a raccontare il nostro territorio abruzzese. Quest'anno con un padiglione completamente rinnovato, con l'Enoteca regionale che porterà con sé oltre 350 etichette, con la presenza di Nicoromito, degli chef di qualità Abruzzo, davvero, io sono certo, l'Abruzzo sarà protagonista al Vinitaly e a Verona. Questo è il servizio sul Vinitaly, dal vino all'acqua, un polo delle acque per creare lavoro, appello alla regione per velocizzare l'iter delle concessioni per lo sfruttamento del sorgenti. E poi, approdato in giunta regionale, è stata approvata la delibera su proposta dell'assessore Diro Pepe per istituire un regime de minimis per aiuti alla marineria pescarese. Andiamo avanti, esaltiamo le pagine di cronaca nazionale che abbiamo visto proprio nell'edicola nazionale. Andiamo a vedere invece le cronache dalle province. Ripartiamo da Pescara, si parla di Tari, di tassa sui rifiuti e della caccia del comune a 2.300 cittadini irreperibili. Ultimi giorni per pagare intanto senza la multa, sabato scade la proroga concessa dal comune agli utenti ritardatari per vessare la prima rata della Tari. E poi la lotta allo smog, bici, annolo e ciclostazioni, la rivoluzione a due ruote. Il Mobility Manager svela alla Commissione i progetti del comune contro lo smog. E poi in basso diffida il Ministero stradaparco poco sicura ambientalisti contro i bus a metano proprio sulla stradaparco. E parliamo della gara di sabato, gara di campionato di calcio di Serie B Pescara a Bari. 350 agenti per la sicurezza dopo gli scontri di due anni fa è ritenuta una partita a rischio, limitazioni e divieti scatteranno sabato mattina. E poi ancora a Pescara, siamo a parlare del Rotary Pescara Ovest, incontro sull'illegalità ambientale, esperti e dirigenti scolastici a confronto domani in provincia. E poi prossima udienza l'11 ottobre, si parla del processo per quanto riguarda le vicende della sanità abruzzese, e Chiodi Baraldi verso la prescrizione. Di fatto concluso, infatti, il processo sui tetti di spesa delle cliniche private. Andiamo ancora avanti, l'open day all'Università d'Annunzio di Pescara. La sfida dei futuri ingegneri, ricostruiremo l'Abruzzo, l'appello degli universitari alle istituzioni. Consultateci, abbiamo tante idee. Proseguiamo, c'è Vivi Città, gara di corsa e solidarietà. Se ne parla e se ne è parlato ieri in comune a Pescara, perché è stata presentata la 35esima edizione del Vivi Città, che tornerà domenica con tante iniziative. Gara organizzata dalla Wisp, Abruzzo e Molise. Gli incassi delle iscrizioni andranno ai bimbi siriani e ai malati di SLA. Ieri eravamo presenti con le nostre telecamere, proprio a Palazzo di Città, a Pescara, per la presentazione del Vivi Città. Possiamo andare a vedere il servizio. 35esima edizione del Vivi Città. Assessore Diodati, domenica Pescara vivrà un'altra giornata di grande sport, solidarietà e città, soprattutto a misura d'uomo in questo caso. Questo è un evento sportivo, ma è un evento che si inquadra anche in un contesto sociale e in un contesto di miglioramento della qualità della vita della città. Per cui noi ringraziamo la Wisp perché sono oramai 35 anni che questa manifestazione si tiene a Pescara. Abbiamo riscontri che tante persone vengono a disputare questo circuito su Pescara, perché il circuito è un circuito che obiettivamente è un circuito molto bello e di grande qualità. È l'espressione proprio popolare del podismo, del voler correre, ma soprattutto del voler stare insieme, di voler essere solidali, di voler lanciare un messaggio per l'ambiente e anche di voler fare una grossa operazione solidale. A proposito di solidarietà ci saranno tante iniziative che metterete anche in campo in questa edizione. Ricordo brevemente che il Vivi Città è un evento globale in quanto si disputa allo stesso momento in oltre 60 città italiane e in 25 penitenziari e luoghi di detenzione. Quindi è un momento veramente storico per il podismo, per lo sport e per il sociale. Per quanto riguarda l'Abruzzo, noi abbiamo ovviamente abbracciato il progetto della Wisp nazionale che raccoglie fondi per Terre des Hommes, che è un'associazione internazionale che aiuta e gestisce i bambini che escono dalla Siria. Ma per quanto riguarda il nostro territorio abbiamo appoggiato tra le altre associazioni come la Lilt, Pescara ed altre, in particolare il nostro partner solidale e ISAB. ISAB sta per io, sono ancora vivo, è un'associazione a sostegno dei malati di SLA. L'abbiamo fatto io e la mia famiglia perché abbiamo avuto il problema a casa, ci siamo resi conto che l'assistenza è fondamentale per questo tipo di persone. Per noi è una grande occasione di sensibilizzare le persone su questa malattia che sembra non essere così conosciute, invece è una malattia che colpisce 7-8 persone ogni 100.000 abitanti. Ricordiamo che la clinica specializzata di Chieti ha in cura 46 persone, quindi non è proprio una malattia così rara. E noi non facciamo ricerca, ripeto, ma facciamo soltanto assistenza. Questa è la presentazione del Vivi Città che si correrà domenica a Pescara. Andiamo avanti, gara Città Sant'Angelo, politici ai Fornelli e sindaco di Torino di Sangro, la più brava. E poi iscrizioni anche dal Giappone, così riparte l'Iron Man pescarese. Premio Allegrino alle Madri Coraggio, sabato al Petruzzi, cerimonia con gli studenti pescaresi e la dodicesima edizione, ci sarà anche la supermamma di dieci figli di Cupello. Siamo alla pagina di Montesilvano. La politica, i conti della città, bilancio in maggioranza si cerca un accordo. L'assessore Comardi presenta lo strumento previsionale per il 2018, poi l'assise slitta domani, niente aumenti di tasse, si fa cassa con le multe. E poi in basso, firme per un centro vivo, in tanti aderiscono alla petizione promossa dai commercianti di Montesilvano. Allora possiamo fermarci per qualche attimo, poi torneremo in studio, come sempre, per la seconda parte di Mattino 6. Seconda parte di Mattino 6, siamo ancora alla cronaca di Montesilvano dalle pagine del centro Pala Roma, volto dal degrado tra graffiti ed erbacce, imbrattato l'impianto sportivo di via Settimo Torinese, con il parcheggio al limite della praticabilità per le buche. Ancora Montesilvano cronaca, anziana raggirata da un falso poliziotto, l'uomo si è presentato a casa della donna chiedendole soldi per far rilasciare il figlio. E poi in basso, spoltore, Villa Santa Maria, lavori su strada e condotta idrica. Proseguiamo, siamo a Francavilla, siamo alla cronaca, ancora uno schianto in galleria, due feriti, colpo di sonno la causa dell'invasione di Corsia, in ospedale un giovane di Tollo ed un 68enne di Pescara sono stati ricoverati, uno all'ospedale di Echieti, l'altro a Pescara. Dunque c'è stato l'ennesimo incidente all'interno della galleria Le Piane, della variante di Pescara. Ancora Francavilla, cambiamo argomento, Piero Pelù il 29 luglio al Blue Bar, il cantante ospite della rassegna francavillese, si esibirà in piazza Sant'Alfonso. E poi la cronaca, Cappelle sul Tavo, due donne accusate di spaccio, arrestate dai carabinieri della compagnia di Pescara. All'anno, 200 stand per la fiera dell'agricoltura, da domani a domenica la quarantesima edizione della manifestazione organizzata da Istituto Agrario Cupari, Comune e Provincia di Pescara. Scuola e cultura digitale in un convegno a Popoli, l'evento organizzato per sabato al liceo scientifico. E poi Pescara, appalti pilotati a bussi e bugnare, rinviato il processo a 15 imputati. E poi Penne, ridimensionamento ospedale, congelare l'atto aziendale. Infile la cronaca, Pietraninco, sorprese a rubare il gasolio degli autobus tua, arrestati dai carabinieri. Proseguiamo, siamo alla pagina di Chieti, del quotidiano Il Centro. Beleni dell'ex conceria, servono 3 milioni, sito contaminato senza bonifica, spunta un progetto del 2006 per rimuovere i rifiuti sotterrati. In 12 anni nessun intervento. Bracco, consigliere regionale, dice Chieti Scalo, è una bussi 2. No al gasdotto a Bucchianico e Brecciarola, protesta degli attivisti del Movimento 5 Stelle, in prima linea anche la deputata torto. Le aree sono troppo fragili. In basso, ancora Chieti, indagati quattro funzionari di banca per usura. L'accusa, i dipendenti del Monte dei Paschi avrebbero lucrato 114 mila euro ai danni di un imprenditore. Siamo ancora alla cronaca da Chieti. Il figlio di Cucullo muore dopo l'intervento. Massimo Cucullo aveva 58 anni, era all'ospedale di Ancona per problemi cardiaci. L'operazione era andata bene. Poi la crisi, dunque la scomparsa, del figlio dell'ex molto amato sindaco di Chieti, Nicola Cucullo. Siamo ancora nel capoluogo Teatino. Frutta esposta allo smog multato. Blizzi di carabinieri nei negozi. E poi Lanciano. Quintali di Amianto. Ecco qui il titolo. Quintali di Amianto in Riva al Sangro. Nuovo senso civico scopre. 300 pannelli di Eternit sul greto del fiume. E poi in basso, vasto, parliamo di quest'altra notizia, recuperate in A14. Tre auto rubate, due arresti. Andiamo avanti. Siamo alla pagina della provincia di Chieti. Siamo ad Ortona. In particolare Nuova Moria di Vongole. Torna l'allarme. Domani sopra luogo degli esperti di biologia del mare. Timori tra i pescatori. E poi Ortona. Strada rotta all'ingresso dell'A14. Il sindaco. Chiudo tutti gli accessi. E poi in basso, a Fossa Cessia di Giuseppe Antonio Sani. I conti del comune, dice il sindaco. E' stato infatti approvato il consuntivo. Proseguiamo. Siamo alla pagina di Teramo del centro. Rubano... Vediamo un attimo se possiamo ecco qui ricoperare la pagina. Rubano 1300 giorni di lavoro all'ASL. Infermiere tecnico radiologo. Sono in congedo per assistere padre e nonna. Ma la finanza li scopre in vacanza. E poi l'attacco di mercante del Movimento 5 Stelle. Due ecoendoscopi spostati da Teramo ad Atri. Una follia in basso a Nereto. Due chili di droga nascosti in campagna. I carabinieri trovano 20 panetti di hashish. E caccia al grossista che li custodiva. Siamo alla seconda pagina del centro. Per quanto riguarda la cronaca di Teramo. Si va e si parla di elezioni. Morra del Paggio. Il nodo non si scioglie. Centrodestra ancora senza candidato. Il tavolo politico romano prende atto dei due nomi. E si aggiorna a martedì. E intanto Paola Cardelli correrà da sindaco con la lista civica sinistra per Teramo. E poi più in basso Alessiani del DMDP. Qui mancano idee politiche. E programma il centro-sinistra a pezzi. E poi la cronaca che ci porta a Tortoreto. A manchi sui buoni pasto. Due indagati. Proseguiamo. Ancora una pagina della provincia di Teramo. Siamo a Silvi. In questo caso centrodestra. Spunta Scordella ma è caos. L'esponente leghista sarebbe il candidato. Ma Fratelli d'Italia si dissocia. Forza Italia ripropone Mazzone. Che si era auto esclusa. Un'estate con lo sport. Dalla bici al calcio. A Pineto presentato il calendario degli eventi. Spiccano le gare internazionali. Di mountain bike ancora in basso. Domenica a Pineto Dog Festival. Fra sfilate ed esibizioni. E poi rubano carne e biscotti. Bloccate due rom al centro universo di Silvi. Siamo alla pagina dell'Aquila del centro. La restituzione delle tasse verso la protesta. Mobilitazione da tutto l'Abruzzo. Anche la CNA di Teramo. In città la Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Sfilerà con Biondi, il sindaco del capologo di regione. E poi andiamo in basso. Ranieri, Roma, ignorante sulle 7.000 cartelle. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle interviene sull'altra stangata esattoriale che si abbatte sulla città. Ancora cronaca dall'Aquila. Sulle pagine del centro. Sventato un raggiro ad anziani conugi. Una giovane si è presentata nell'abitazione chiedendo con insistenza di indicarle dove avessero la cassaforte. E poi Avezzano, pistola puntata sul bambino. Due condanne. E poi in basso, squadra di calcio a scrocco. Nell'hotel, l'avvocato Paris presenta il conto. Il campo basso ha pernottato a Pescina durante la trasferta di Avezzano. Siamo alle pagine dello sport, ma dobbiamo andare a vedere insieme invece le pagine interne del quotidiano Il Messaggero. Ovviamente relativamente all'inserto Abruzzo. Pagina 2. Sanità. Il giudice sfida gli imputati sulla prescrizione. I tetti di spesa alle cliniche private. Rinviato ad ottobre il processo destinato ad estinguersi. Ad agosto. E poi la politica di Matteo Convention con i fedelissimi per dire no all'olio. Abbiamo parlato prima della politica regionale del nuovo rimpasto. Abbiamo ascoltato anche le dichiarazioni del Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazi. Ora siamo a Pescara. Bus e area di risulta ora o mai più dopo Civitarese. Giubilato per la riapertura di Corso Vittorio alle auto. Rischia Tonelli. Stop dal Comune per la strada Parco. E poi chiesta l'archiviazione per Mattoscio per la Procura. I presunti falsi in bilancio alla saga sono privi di dolo. Altro fascicolo alla Corte dei Conti. Andiamo avanti. Web, inglese e multimedia. Le materie dei nuovi lavori. Così i centri di formazione professionale fanno i conti con le esigenze delle imprese. Andiamo ancora avanti. La cronaca. Siamo alla vicenda dell'omicidio di Alessandro Neri. L'auto bruciata. Ultima carta del RIS. Analisi sulla Meriva. Incendiata e rottamata. Si cerca una traccia per dare un nome all'assassino. La vettura è identica a quella che seguiva la 500 della vittima. Ma il proprietario, un tassista, si è dichiarato estraneo ai fatti. Altro frontale in Galleria. Due feriti nella Galleria Le Piane. Sulla variante Montesilvano-Francavilla. E poi l'Aquila. Tasse Dossia Mattarella. La Meloni sfiderà in corteo con il sindaco Biondi. E poi Gran Sasso con 80 euro un mini abbonamento. E poi andiamo a vedere più in basso. Artigiani compatti alla manifestazione. Si parla sempre della vicenda che riguarda la restituzione delle tasse. E poi mobilità. 6 milioni per le piste ciclabili Albano-Comune-Faccia-Presto. Andiamo in basso. La donna lo ha reso succube. 37enne assolto dallo stalking. E poi condannata ex cerimoniera del Comune. Siamo alla seconda pagina di cronaca dall'Aquila. Scuole. Verifiche con l'Università. Biondi replica le accuse del Comitato. Convenzione vicina con il Dipartimento di Ingegneria Sismica del nostro Ateneo. Ateneo. E poi protezione civile ad Avezzano. L'Iris e Silveri attaccano D'Alfonso. E poi il Rotari adotta la fontana di piazza Nove Martiri. In basso. Berto in città. Grazie Alpini. Il generale saluta il rientro del nono reggimento dalle missioni all'estero. Andiamo avanti. Siamo alle pagine della Marsica e della Valle Peligna. Partiamo da Avezzano contro di me attacchi pretestuosi. La Presidente Iride Cosimati si difende. Poi però convoca il Consiglio per il 24 aprile. E i capigruppo per lunedì prossimo. Non voglio fare polemica. Dice eppure spara a zero contro i dieci che l'hanno pesantemente accusata di imparzialità. Questo è il titolo di apertura di pagina 47. E poi Avezzano violentò una ballerina. Ora va davanti al giudice. Sul Mona ai nostri figli sarebbe stato più utile un processo penale. Parla una delle madri condannate a risarcire la ragazzina le cui foto nuda finirono in rete. Avezzano legge Fornero accolto il ricorso di due docenti. E poi Sul Mona salvate l'abbazia di Santo Spirito. Infine Carsoli, usi civici, rispunta la vecchia guerra sui terreni. Siamo alla pagina di Chieti del messaggero. Blizze nei barri e nelle frutterie scattano denunce e maxi multe. Poi Aula Magna di lettere. Ecco a Bete il motivatore, il popolare inviato di strisci alla notizia, condurrà questa mattina alle 11 una conferenza spettacolo con video, gag e testimonianze. E poi, sempre all'università, il gospel sale in cattedra. Oggi evento all'auditorium. E poi in lutto la politica teatina e non solo. È morto in ospedale l'ingegner Massimo Cuculo. Era il figlio dell'ex sindaco più amato di sempre. Il professionista aveva 58 anni. Il decesso dopo l'intervento al cuore. Il ricordo dell'attuale primo cittadino di Chieti. Di primio, siamo sempre a Chieti. Lo picchiò perché indossava la maglia del Pescara. L'ultra si scusa con un sorriso e risarcisce i danni. Andiamo ancora avanti. Pagina di Lanciano. Vasto, Ortona, turismo e commercio. Numeri record. In tanti chiedono i permessi al comune per esporre la merce fuori dai negozi. Ancora a Lanciano, ex ippodromo, allarme per i bivacchi. E poi invece a D'Ortona, emergenza strade a pezzi. La protesta del sindaco Leo Castiglione. E poi a Basto, la cronaca, ladri d'auto arrestati dopo l'inseguimento. Siamo alla pagina di Teramo del messaggero. Asli furbetti della legge 104 in vacanza, altro che disabili. CGL, ora più controlli, quei giorni ci servono. Dunque si parla in questo caso delle proposte e delle opinioni della CGL sui problemi che riguardano l'assenteismo. E poi falsi vigili al telefono. Multa con l'autovelox, paghi con lo sconto. Ma è una truffa in basso. Torniamo a Teramo, strisce blu, Tercoop, a rischio i posti di lavoro. Lavoro, infine la cronaca, calci e schiaffi alla moglie, stalker gentiluomo in cella. Siamo alla pagina che riguarda la provincia di Teramo. Scontri al derby, il PM rissa tra ultra. Cambia l'imputazione per 14 tifosi giuliesi e 6 marsicani dopo le violenze al termine di Giulianova Avezzano del 2015. Feriti un maresciale e un appuntato dei carabinieri che cercavano di impedire il fronteggiarsi delle due tifoserie. E poi botte al barbiere, dirigente comunale cerca l'accordo prima della sentenza. E poi ancora Giulianova, ex colonia Rosa Maltoni Mussolini. Sarà ristrutturata per gli over. 75 in basso ad Alba Adriatica, multe a chi non tiene in ordine il giardino appalto per la pulizia del verde pubblico. Val Vibrata sono 2.500 le persone in stato di povertà. Siamo arrivati alle pagine dello sport del messaggero, ma dobbiamo andare a vedere insieme le pagine interne del quotidiano La Città. Abruzzo, cronaca regionale a pagina 3, restituzione tasse, CNA sfila contro l'Europa e incontro a Montorio oggi sulla restituzione delle tasse. Poi in basso, Marinella Sclocco, assessore alle politiche sociali. La regione soffre, dice per mancanza di collegialità. In chiesta alla ASL, siamo a Terapo, scoperti altri due furbetti del permessino risultavano in congedo retribuito per assistere parenti disabili. Invece la finanza li ha beccati in vacanza. In basso, tetti di spesa alle cliniche private, Chiodi valuta la rinuncia alla prescrizione. Il governatore Merito è finito a processo per aver cercato di mettere dei freni alla spesa sanitaria regionale. Andiamo avanti. Si parla di politica amministrativa, di elezioni a Teramo. Del Paggio diventa il candidato della Lega. La proposta ufficializzata al tavolo nazionale da Bella Chioma, Morra tiene duro, forte del patto con Gatti. In basso, Abruzzo Civico, Pomante disponibile solo per una candidatura unitaria per i sottanelliani. L'alternativa resta comunque la corsa in solitaria con Cordoni. Silenzio tombale, clamoroso centrosinistra, insiste con il rettore, questo è il titolo di pagina 7 del quotidiano La Città, dietro il ritiro spirituale dei vertici del PD, c'è l'ennesimo tentativo di coinvolgere Luciano D'Amico, rettore dell'Università di Teramo. Se ci danno le chiavi, apriamo Lati, vincitrice del bando per la piscina Acquaviva, siamo sempre a Teramo, sollecita gli uffici comunali e poi l'allarme dell'associazione Robin Hood che segnala truffe sulle multe degli autovelox. Borse di studio, il Consiglio promette coperture, c'è tempo fino al 30 aprile per esaudire almeno il 40% delle richieste, altrimenti addio ai fondi statali. Si parla di borse di studio universitarie in questo caso. Siamo alla pagina della provincia di Teramo, fiori e minacce alla ex, patteggia 10 mesi, bigliettini minacciosi, pedinamenti e pressioni da parte di un sessantenne di Penna Sant'Andrea. Andiamo avanti, cervi e lupi tornano sulle nostre montagne. Domenica nella riserva naturale di Castel Cerreto di Penna Sant'Andrea, il convegno sulla grande fauna. Maratona in bici contro l'abbandono dei rifiuti, tappa teramana per l'impresa del rifiutologo Roberto Cavallo e del triatleta Roberto Menicucci. In basso, l'offerta del trasporto ben distribuita sulla Teramo Giulianova, la società tua chiarisce che è stato già avviato il percorso per il rinnovamento dei parchi mezzi, del parco mezzi della tua per quanto riguarda proprio la tratta molto frequentata, neanche a dirlo Teramo Giulianova. Siamo a Tortoreto, anni di incuria dietro la chiusura della piazza. La situazione di Cavatassi era stata denunciata già nel 2008. Valle Castellana, strade Colabroto e casette post-sisma ancora non consegnate. E poi in basso, a Nereto, incontro sulla dislessia a scuola nella sala alliende. Maltrattati sull'autobus a Bologna, coppia Giuliese denuncia i controllori dell'azienda che avvia un'inchiesta interna a Giulianova, via al corso di micologia. Mentre ancora nella città Giuliese il polo scolastico si allontana dal tribunale. I bassi coefficienti sismici mostrano che è troppo costoso renderlo sicuro. E poi la Branella vuole anche il cimitero per gli animali. In basso si parla di sanità, sempre da Giulianova, demolizione in corso per l'ospedale di Giulianova. I Cinque Stelle tornano all'attacco sul malfunzionamento degli ascensori. Proseguiamo, Atri al voto, dei banchi del PD appoggio a Ferretti. L'ex capogruppo Chiara Di Nardo entra in Atri, non si tocca, schierata con il candidato di centrodestra. Pineto, stasera a Villa Filiani, la consegna degli attestati di protezione civile. In basso ad Atri, boomerang di mercante sul reparto di endoscopia. Siamo a Silvi, caos centrodestra sulla scelta di Scordella. L'annuncio congiunto smentito in poche ore dai vertici provinciali di Fratelli d'Italia. Forza Italia vuole la mazzone. Operazione di polizia, spesa gratis al supermercato, un arresto e una denuncia. E poi cultura in rete a caccia di storie. Da raccontare la carta al tempo del web, ma a partire dal web, l'antologia rosso come il grecale. Andiamo avanti, arriviamo alle pagine dello sport del quotidiano La Città. Gondò continua la ricerca del gol smarrito. Undici presenze, ancora zero reti. Non so qual è il problema, ma passerà le critiche. Le capisco, l'intervista all'attaccante del Teramo, alla ricerca del primo gol in maglia bianco-rossa. E poi ciclismo, Bastianelli non si ferma più, vince anche la freccia del Brabante. L'atleta della Alecci Pollini, dopo il successo alla Gende World Game, conquista in Belgio la quinta vittoria della sua stagione. Dunque, complimenti a Marta Bastianelli. Noi torniamo al centro per quanto riguarda le pagine dello sport. Si parte dalla grande Juve, beffata nel finale in casa del Real Madrid. 3-1 il finale per i bianconeri, con il gol che ha consentito agli spagnoli di passare il turno, segnato al 52esimo del secondo tempo, dunque al 97esimo da Ronaldo. Su calcio di rigore, Furia, Agnelli, Oliver in confusione, Collina deve essere cambiato. E poi Di Francesco, re di Roma, ho fatto una cosa da pazzi, l'abruzzese in semifinale. Il tecnico del cambio di modulo che ha messo K.O., il Barcellona, osannato anche a Pescara. Eusebio Di Francesco, tecnico pescarese della Roma, vedete infatti l'articolo in basso. Scaramanzia e gioia, la notte magica dei familiari, i genitori soffrono a Dragonara davanti alla TV, i fratelli festeggiano all'Olimpico insieme. Ad Eusebio e complimenti dunque ad Eusebio Di Francesco. Noi siamo invece a parlare del Pescara, perché sabato all'Adriatico si gioca un attesissimo Pescara a Bari. Pilon spera in Brugman, Crescenzi dice salviamoci e noi andiamo ad ascoltare proprio il difensore della formazione bianca-azzura che ieri abbiamo avvicinato ai nostri microfoni. Sabato arriva il Bari, Alessandro a questo punto otto finali per il Pescara, quella con i pugliesi è la prima, gara da non sbagliare assolutamente. Sì, mi ha detto bene, otto finali, in ogni partita dovremmo essere perfetti arrivati a questo punto per raggiungere quanto prima la salvezza. Incontriamo una squadra che è tra le prime posizioni, secondo me ha una rosa molto importante e può andare in Serie A. Però noi come ho detto prima dobbiamo essere perfetti in queste otto finali e quindi daremo il 130%. A proposito di Bari, tu sei un ex, hai giocato con i Bianconossi nel 2011, quali ricordi dell'esperienza pugliese? Sì, oramai è passato tanto tempo, però mi sono trovato molto bene a Bari, è una grande città, ha una grande tifoseria e per questo la rispetto tanto, però adesso io sto qui a Pescara e voglio pensare solo al Pescara e come ho detto prima di raggiungere quanto prima la salvezza. Arrivate a questa gara dopo il pareggio di Palermo, un'ottima partita quella giocata in terra siciliana, però i risultati dei posticipi hanno fatto addirittura peggiorare la classifica del Pescara. A questo punto bisogna tornare necessariamente alla vittoria, anche con i pareggi si fa poca strada. Sì, però io di natura sono fiducioso e ancora di più dopo la prestazione fatta a Palermo. Secondo me abbiamo dimostrato, oltre all'atteggiamento che è stato infallibile, ma abbiamo dimostrato che sappiamo giocare e che abbiamo le palle e possiamo confrontarci con chiunque. Eloquenti le parole di Crescenzi, proprio in riferimento alla gara di Palermo e a quella prossima con il Bari. Vediamo in questo specchietto del centro quanto è delicata la posizione di classifica dei Biancazzurri, perché vedete partendo dal basso, Ternana ultima con 30 punti, Provercelli 31, poi un salto di ben 5 lunghezze con Ascoli e Virtus Entella 36, Cesena 37 e qui c'è la zona play-out con Cesena e Dentella. Pescara un punto sopra a 38, poi Avellino e Novara 39, Brescia 41. Vediamo quello che accade a Bari in casa Biancorossa, Anderson e Delia scalpitano per tornare dal primo minuto, Galano di nuovo in panchina e poi parla Andrea Grosso, fratello di Fabio Grosso, tecnico del Bari. Sono pescarese, ma ti ferò per mio fratello. Di Felice Antonio vota il diavolo, il doppio ex di San Benedettese Teramo e spugnare il Riviera delle Palme sarebbe fondamentale, dice, per conquistare la salvezza. Riunione del GOS, vendita libera dei biglietti, San Domenico, allenamento differenziato. E poi la Virtus di fronte ai creditori, accordo o fallimento. A Lanciano l'udienza per il concordato chiesto dai Maio, il destino è nelle mani dell'Agenzia delle Entrate. Poi proposta di nozze in mezzo al campo a fine gara, Celano, il portiere Cardarelli dello Sportland, con uno striscione, chiede alla compagna di sposarlo. E noi siamo a Giulianova che prepara la festa per il match di domenica prossima, con il dubbio di Paolo, in caso di vittoria la promozione in Serie D dei giallorossi sarebbe matematica, ma il tecnico Piccioni frena gli entusiasmi, il Montorio ci farà soffrire, ha bisogno di punti. E poi il calcio a 5, a Rosticini e Fuzzale, Civitella, Casanova, pronta alla storia. Un paese di 1.792 abitanti, vive una vigilia particolare. Se sabato a Chieti vince, viene promosso in Serie A una favola, nata nel 2002 dalla Serie D. E poi il calcio di Serie D, tifosi pagano il ritiro dell'Aquila a San Marino. L'Avezzano perde il portiere Fanti. Per squalifica andiamo a vedere anche le pagine dello sport del messaggero. Pescara lotta fino alla fine, mister Gautieri, ex bomber del Delfino e del Bari, parla della gara di sabato. Di Francesco il freddo da San Buceto con la vittoria con il Barcellona. Il tecnico pescarese trionfa nella sfida con gli Spagnoli e Gondò carica il Teramo. Segno io, dice l'attaccante bianco-rosso. Poi il basket, Sharks parte l'appello, con i play-out assicurati torna l'ottimismo. Politici ed imprenditori si facciano avanti. E poi il futsal donne, si parla di calcio a 5 e al femminile, il team pescarese. Noi resisteremo, dicono le ragazze del calcio a 5. Poi la mezza pagina, come ogni giovedì, che il messaggero dedica alla Wisp. Vedete foto e notizie sui vari campionati di calcio. Infine, le prime pagine di Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tutto Sport. La Gazzetta, Juve furibonda, la rabbia e l'orgoglio. Dopo una partita epica i bianconeri esplodono. Agnelli contro Collina colpite, ha detto il presidente della Juventus, scientificamente. scusate le italiane, designatore da cambiare. Buffon espulso, Corriere dello Sport, che furto. Champions, un rigore inesistente. Nega alla Juventus l'impresa. E poi in basso, Roma applausi dal mondo intero dopo il capolavoro con il Barcellona. Barcellona, infine, tutto sport, fuori una Juve immensa. Così no, titola il quotidiano torinese sulla beffa. Davvero, non c'è altro termine per descrivere la gara di ieri dei bianconeri sul campo del Real Madrid. Siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi, del 12 aprile, con Mattino 6, che tornerà come sempre domani puntuale alle 8. Io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia, ringrazio voi per averci seguito. Vi do appuntamento alle 14 per la prima edizione del TG6. Buona giornata. Buona giornata.